Con l'arrivo di Sonic il film nelle sale, torna attuale una di quelle domande che agli amanti dei videogiochi e del cinema piace tanto. Quali sono i migliori film tratti dai videogiochi? Una domanda, visto come sono andate le cose negli ultimi 40 anni, che ha un che di masochista, perché, diciamolo, gli adattamenti cinematografici di saghe videoludiche sono un genere davvero sfortunato. Noi però abbiamo deciso di raccogliere la sfida ancora una volta, premiando film che per merito o per coraggio dovrebbero essere ricordati e, perché no, rivalutati. Prima di cominciare vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche, per non perdervi nessuna novità targata Movie Player. The Rock è la nuova incarnazione del divo hollywoodiano e nel suo fit curriculum non mancano anche un paio di comparsate in film tratti da videogiochi. Il primo è stato quel Doom del 2005 che meriterebbe anche lui di stare in una classifica di film dedicati ai videogiochi, i peggiori chiaramente. E poi c'è il più recente Rampage fuori animale. Trasposizione del videogioco arcade anni 80, Rampage rimane un adattamento dal sapore decisamente nostalgico, a metà strada tra il disaster movie e il sci-fi, con un The Rock che partecipa ad un film insolitamente truculento e scorretto per lo standard più friendly al quale è abituato. Le tematiche del rapporto tra uomo e natura o l'ingegneria genetica fuori controllo sono assolutamente secondarie rispetto all'azione e alla spettacolarità dell'insieme. Sicuramente una boccata d'ossigeno per il genere Monster Disaster di questi anni. Lo sappiamo. Sicuramente state pensando che Final Fantasy The Spirits Within dovrebbe stare assieme a Doom, nella classifica dei peggiori adattamenti. E probabilmente non avreste tutti i torti. Parliamo di un film con uno script troppo poco approfondito e una storia che lasciò i fan del franchise videoludico parecchio perplessi, oltre ad essere stato un flop così disastroso da portare l'etichetta Square Pictures al fallimento e causare il ritardo della fusione tra le compagnie Square ed Enix, ora solida realtà dell'industria videoludica. Perché metterlo quindi tra i migliori? Beh, perché Final Fantasy The Spirits Within, ai tempi, ebbe un impatto molto importante sul mondo del cinema, dimostrando le potenzialità del medium videoludico e l'impatto che questo ha inevitabilmente avuto sulla cultura pop mondiale. Un esempio? Nel 2001 Aki Ross, la protagonista del film, fu il primo personaggio di fantasia ad apparire nella lista di Maxim tra le 100 donne più sexy di quell'anno. Anche in questo caso premiamo il coraggio e non il risultato effettivo, anche se nel caso di Warcraft siamo di fronte ad un film nettamente migliore del precedente. Il problema più grande di Warcraft sta forse nel suo sottotitolo, l'inizio. A quanti fatti, il film è un lungo prologo per una storia che probabilmente non vedremo mai. È come guardare i primi capitoli delle trilogie tolkeniane di Peter Jackson, ignorando i film che vengono dopo. E il motivo per cui probabilmente non vedremo mai il seguito è da ricercare nei dati del box office di Warcraft. Nonostante il film abbia settato un record con i suoi 439 milioni di dollari di incassi, diventando il film tratto da un videogioco ad aver guadagnato di più nella storia, di questi 439 solo 47 arrivano dagli Stati Uniti. Insomma, agli americani non è proprio piaciuto e l'ultimo film ad aver prodotto una disparità così marcata al box office è stato Terminator Genisys. Così potete farvi due conti e capire quanto poco gli americani abbiano apprezzato. Peccato, perché il film ce la mette davvero tutta, a volte inciampando sugli effetti prostetici e sulle armature umane e altre eccellendo, come nel caso degli orchi, personaggi convincenti sia nella scrittura che nella resa grafica. Non ti arrabbiare Alicia, sappiamo che sei una bravissima attrice, ma di Lara Croft sul grande schermo può esisterne soltanto una. E no, non sei tu. Parliamo infatti di Angelina Jolie, che grazie a Lara Croft e Tomb Raider è stata definitivamente consacrata a eroina action. La pellicola strizza l'occhio sia ai fan della serie, riproponendo diverse mete viste nei videogiochi come Venezia e la Cambogia, sia agli amanti del genere action. Forse alla Lara della Jolie manca quella plomb british tipico del personaggio videoludico, ma incarna la perfezione e l'emancipazione che contraddistingue Miss Croft. Che, nonostante ad un certo punto della pellicola faccia coppia col suo rivale in affari nonché ex Fiamma, interpretato da un certo Daniel Craig, rimane sempre fedele e salda verso se stessa e i suoi ideali. Il film, con un incasso di 280 milioni di dollari, diventò a quel tempo il primo vero grande successo per un film tratto da un videogioco. Il franchise cinematografico di Resident Evil è una lunga discesa verso l'oblio, così nero che l'apocalisse zombie di Raccoon City sembra un futuro più roseo rispetto ad un rewatch della saga. Nonostante da Apocalypse in poi, la storia sempre più a somigliare ad una fanfiction che introduce un personaggio mai visto nei videogiochi chiamato Alice, la primissima pellicola era molto più che decente. I fatti narrati nel film si sposano bene con le vicende originali del videogioco, dal quale vengono riprese atmosfere claustrofobiche e un senso di pericolo costante celato dietro ogni angolo buio dell'alveare. Un film che ha soddisfatto i tempi fan della saga e ha regalato agli amanti degli zombie movie un'alternativa ai tempi fresca e diversa dal solito. Probabilmente parlando di videogiochi Ubisoft vi sareste aspettati di vedere in classifica Assassin's Creed, che però abbiamo deciso di non includere. Nonostante quello con Michael Fassbender e Marion Cotillard sia un film dall'alto valore produttivo, è decisamente troppo scollato come adattamento dal videogioco di partenza. Molto più meritevole di stare in classifica è Prince of Persia, The Sense of Time. Fu curioso nel 2010 vedere l'adattamento di un videogioco per il quale la sua stessa software house aveva perso interesse. Quelli infatti erano proprio gli anni d'oro di Assassin's Creed. Saga che va detto, a Prince of Persia deve moltissimo e che in termini di adattamento cinematografico eccelle rispetto alle vicende degli assassini dell'inquisizione. I motivi per cui Prince of Persia risulta vincente ai nostri occhi sono un protagonista dotato di grande carisma, quello di Jake Gyllenhaal per la precisione, e un focus molto attento sulle scene d'azione, acrobazie e ambientazione. Se il primo film di Angry Birds aveva piacevolmente convinto per la sua ironia, con Angry Birds 2, nemici e amici per sempre, si è alzato notevolmente il tiro. Il film è un'irresistibile commedia piena di scene demenziali e di citazioni che nasconde in realtà una morale seria ed attuale, come quella del rispetto della diversità e dell'inutilità della discriminazione. Angry Birds 2 sa essere trasversale, adatto a tutte l'età e che non smette di divertire per un solo istante, anche grazie al cast composto da numerosi talenti comici che prestano la voce ai protagonisti, tra cui Jason Sudeikis, Josh Gad, Bill Harder, Aquafina e Tiffany Heddish. Per Mortal Kombat il regista Paul Anderson ebbe a disposizione soli 18 milioni di dollari, ma ne guadagnò qualcosa come 125, numeri mica da poco nel 1995, che decretarono il successo del film rispetto al rivale Street Fighter Sfida Finale, che poteva contare su un divo del calibro di Jean-Claude Van Damme. Anche il cast di Mortal Kombat comprendeva un divo del momento come Christopher Lambert, ma il suo successo è riconducibile ad una maggior fedeltà con l'opera originale, almeno in termini narrativi, visto che la critica non fu molto lusinghiera con Mortal Kombat, sottolineandone la minor dose di violenza rispetto al gioco. Critiche che però non colsero l'elemento chiave. Un videogioco aveva raggiunto un elemento tale di popolarità da sovvertire i pronostici e dominare il mercato, dimostrando che l'insuccesso di Super Mario Bros. di due anni prima era dovuto alla sua scarsa fedeltà all'universo videoludico originale. Tra tutti gli adattamenti cinematografici possibili e immaginabili, il più difficile, rischioso e quasi impossibile da immaginare, è senza dubbio quello legato al mondo dei Pokémon. Eppure, Detective Pikachu è uno dei film tratti dai videogiochi più belli di sempre. La grande intuizione è stata quella di basarsi su un'avventura videoludica ben precisa dello sconfinato universo dei Pocket Monster, e costruire da lì un body movie divertente e avvincente. Forse, guardare un film dove l'adorabile Pikachu alla voce di Deadpool può sembrare per alcuni un po' straniante. Ma l'ironia di Ryan Reynolds, unita al talento del giovane Justice Smith, creano un mix irresistibile. Le scene d'azione sono assolutamente perfette, i Pokémon sono tutti deliziosi e i personaggi si muovono in un arco narrativo dal giusto ritmo e ben strutturato, senza dimenticare le tematiche cardine sull'identità e sul rispetto del prossimo e della natura. Ci dispiace un po' non mettere Detective Pikachu al primo posto di questa classifica, perché la pellicola che si aggiudica la vittoria è un po' sul genere ti piace vincere facile, però alla fine non è il risultato che conta. Silent Hill è secondo noi il miglior film tratto da un videogioco, perché è quello che meglio di tutti è riuscito a proporre sul grande schermo l'atmosfera della controparte originale. Non parliamo di fedeltà di script assoluta, perché anche Silent Hill ha una sua storia che la pellicola non rispetta al 100%, però riesce ad attingere sapientemente all'immaginario videoludico senza mai esagerare. Impresa non così facile, perché la saga horror prodotta da Konami di stranezze ne ha, e anche molte, e molto disturbanti. Però tra un pirate head che separa poveri malcapitati dalla propria pelle e ruggine che incrosta ogni superficie, Silent Hill si aggiudica la nostra corona. E ora che ne dite? La facciamo anche la top 10 dei peggiori film tratti dai videogiochi? Fatecelo sapere nei commenti!